Begati un poco Pensa che bello arrivare ai provini, non ai provini, ai belle backstories del collegio da tiltato Sono G7, ho 17 anni e vengo da Cosenza Ok, si sente perché non sai parlare l'italiano, la nostra lingua Il ciuffo per me è molto importante Ok, infatti sei anche rincoglionito, incredibile, pensavo che questo aggettivo non l'avrei per niente usato durante le backstories del collegio Fratelli d'Italia, perché vorrei rendere orgogliosa mia madre Dov'è la vittoria? Dov'è la gloria? E viva il Presidente della Repubblica